Sono ancora in corso le ricerche del 27enne scomparso in mare nella giornata di ieri durante una battuta di pesca. Al momento non risultano però esserci nuovi sviluppi. Quattro giovani usciti in mare a bordo di un semicabinato di 5 metri, a seguito del ribaltamento del natante verso le 9.20 del mattino, all'altezza di Torpaterno di fronte al villaggio Tognazzi, tre dei ragazzi sono stati tratti in salvo da una barca da pesca. Due di loro, vedendo l'imbarcazione, hanno iniziato a nuotare per raggiungerla, mentre gli altri due sono rimasti sul punto dell'affondamento. I pescatori, dopo aver fatto salire i naufraghi, hanno raggiunto il natante capovolto, ma ormai non c'era più traccia di uno dei ragazzi. La Capitaneria di Porto di Roma a Fiumicino, che sta coordinando le ricerche nelle ultime ore, ha comunicato che durante la notte è rimasto presente un pattugliamento costante e che le attività si stanno concentrando nei punti in cui si presume le correnti potrebbero aver trascinato il giovane. Il tratto in questione è quello che va da Torbaianica, per l'esattezza da Torpaterno, fino a Fiumicino. Nelle ricerche sono impegnate circa 10 unità, con l'operato di 50 uomini coadiuvati dal supporto di un elicottero e di un velivolo che si alternano nella perlustrazione della zona. Al momento risulta impegnato anche un nucleo subacqueo con mezzi e tecnologie specializzate per le intercettazioni sotto la superficie marina.